Buongiorno al dottor Claudio Sarecino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo del famoso rimandare, rimandare. E anche un condizionamento, una ipnosi ricevuta da piccoli, il fatto di rimandare sempre, spostare la palla avanti, è per il perfezionismo, è per la paura di sbagliare, è per la paura del giudizio degli altri. Se si sbaglia, se non si riesce a fare la cosa che si desidera, sì o no? Beh sì ragazzi. Si parte sempre dall'infanzia, nel nostro subconscio, nella nostra mente, se abbiamo avuto in famiglia un genitore, un qualcosa che ci ha colpiti, che ci ha suggestionati, che abbiamo sempre visto rimandare, bistici, litigi, beh così sarà anche da adulti, abbiamo acquisito quel tipo di condizionamento anche se non parlavano con noi. E naturalmente uno ha rinvia, sposto la palla avanti spiegandoselo con la ragione, razionalmente, che non è colpa sua, eccetera eccetera, perché in verità ha questo meccanismo interno, subconscio, di rimandare. L'ipnosi, dice essa, che cosa può fare? Può, se uno ha voglia di cambiare, cercare di eliminare quell'immagine che soltanto lui sa dove si trovi nella sua mente e rimpiazzarla con un'immagine di energia, di voglia di fare, di voglia di tirare in porta, di voglia di fregarsene se si sbaglia o meno, ok? Alla faccia del perfezionismo, che non è una qualità ragazzi, è un difetto, è un limite. Quindi se tu ti trovi nella situazione di rimandare, ti prego vai presso un professionista dell'ipnosi della tua zona, oppure se non hai voglia di spostarti, di mettere la famosa tuta, di perdere minimo tre ore, eccetera eccetera, beh, seguimi e ti dirò come fare, ok? Con la tua energia, la tua stanzetta, ad auto-ipnotizzarti, magari utilizzando il mio metodo, metodo DCS, per uscirtene da questa situazione che ti porta su dieci occasioni a rimandarne nove, sempre con la solita scusa, ok? Che sono gli altri. Seguimi su tutti i social, fammi tutte le domande del caso, a visita al mio profilo su Facebook, la mia fanpage ipnosi, auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino, a visita al mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, Benessere Ipnosi, Soluzione di CS, il dottor Claudio Saracino, e visita anche i miei profili Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi, Soluzione di CS, il dottor Claudio Saracino, e al prossimo video, un bacio, un abbraccio. Grazie.